Mi piace il nuovo studio. Avete fatto un bellissimo lavoro all'altezza della città. Devo fare i complimenti all'architetta perché ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Bravi, bravi, bravi. Poi in così poco tempo e finalmente abbiamo uno studio che ricorda il mare, ricorda il Golfo di Trieste, i pesci. Bravi, proprio bravi.